Se stai avendo un problema riguardo a Windows Update che una volta scaricato e installato tutti gli aggiornamenti continua a chiederti il fatto di aggiornare, quindi di riavviare il sistema e aggiornare così il sistema operativo. Quindi in questo caso se riscontri così questo problema riguardo a Windows Update dopo aver fatto anche tutti gli aggiornamenti sull'ultima versione 24H2 è possibile disattivare questo servizio. Andiamo direttamente su servizi, scendo fino a giù fino a trovare Windows Update, cerchiamo sopra, stato del servizio, arrestato, quindi ho arrestato il servizio, tipo di avvio, metto manuale, quindi lo attivo quando mi serve e quindi faccio avvia e attivo così servizio di Windows Update. Come secondo metodo puoi andare direttamente sulla cartella, questo PC, disco locale C, Windows, scendo fino a giù fino a trovare così la cartella di software distribution ed eccola qua. E cancelli tutte queste cartella e fai continua. Una volta fatto, svuota anche il cestino, fai sì. Vai sul tasso Start e arresta il sistema. E accendi di nuovo il PC. Quindi, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!